È nata una rete nazionale a cui afferiscono diverse IRCS per la ricerca e la cura delle patologie ortopediche. In che modo è organizzata qui al Bambino Gesù e che tipo di servizi offre per i più piccoli? Guardi, la risposta è insita nello statuto dell'associazione, perché l'associazione che coinvolge sette IRCS con una particolare propensione per lo studio e la ricerca nel campo delle malattie muscolari e scheletriche ha come scopo agevolare, promuovere la prevenzione, la cura e la ricerca, nonché le associate attività di formazione e di trasferimento tecnologico nel settore delle malattie muscoloscheletriche. Questo è fondamentale e all'interno di questa rete non poteva non essere presente anche un istituto con la sua caratteristica propensione per i bambini, come il Bambino Gesù. È presente comunque anche il Gaslini e porteremo in questa rete che coinvolge istituti prestigiosi, Rizzoli, Galeazzi, San Matteo, Humanitas, IFO, anche tutta la componente di ricerca, di terapia e di studio per il futuro per i bambini traumatizzati e per le patologie anche congenite. Quali sono invece più in generale le nuove frontiere nel campo della traumatologia pediatrica? La traumatologia pediatrica è in realtà una branca dell'ortopedia e della traumatologia relativamente recente perché pur essendo stati trattati sempre bambini in conseguenza di traumi, è dalla metà del secolo scorso che alcuni specialisti si sono indirizzati a approfondire le caratteristiche peculiari biologiche e meccaniche e dell'apparato locomotore in età pediatrica. Questo ha portato ad una conoscenza più profonda sia dei meccanismi in cui avvengono i traumi, sia della risposta dell'organismo, sia di quanto noi possiamo fare avvalendoci delle specificità del bambino nella guarigione per ottenere i risultati migliori possibili. La frontiera è sempre difficile da individuare ma modulando, integrando, approfondendo tecniche che in qualche caso sono e provengono dalla traumatologia dell'adulto, in altri casi sono specifiche, riusciamo in un gran numero di casi anche di fronte a traumi importanti, gravi e dalle potenziali conseguenze gravi a dare una guarigione molto buona, tanto che i bambini alla fine non hanno generalmente degli esiti, il che permette loro di avere uno sviluppo motorio ma anche psicologico completo e di essere poi da grandi, dei cittadini a tutti gli effetti. Nel caso di fratture e lussazioni ma anche patologie congenite nel neonato, in che modo anche qui vengono trattate? Cerchiamo di mettere in campo tutte le ultime dotazioni tecnologiche. C'è da dire che l'ortopedia pediatrica e la traumatologia pediatrica nascono comunque da un albero con le radici molto profonde. L'ortopedia ha una tradizione centenaria, dovessi dire millenaria, e cerchiamo di trarre costantemente beneficio da tutto ciò che è avvenuto prima. E laddove ci sono delle possibilità di mettere in atto tecniche o tecnologie più avanzate, lo facciamo affinché i risultati siano, nel rispetto della biologia, i migliori possibili. I pazienti traumatizzati in età pediatrica sono molto più numerosi di quello che si immagina generalmente e hanno peculiarità assolute. Si ripete facilmente e molte volte il fatto che il bambino non sia un piccolo adulto. E non è mai tanto vero proprio come nell'apparato muscolo-scheletrico, che permette a tutti noi di nascere di 48-51 cm di lunghezza e poi di diventare 1,50-1,80-2 metri. E' proprio la caratteristica biologica e la caratteristica meccanica dell'osso e dell'apparato locomotore, che coinvolge quindi muscoli, tendini, nervi, vasi, che va conosciuta e va affrontata nel momento del trauma con le peculiarità che le sono proprie. Che ruolo svolge la riabilitazione anche nel posto operatorio? La riabilitazione in ambito pediatrico è fondamentale. E' fondamentale nel preparare i pazienti, quindi nel preoperatorio, è fondamentale nel seguirli e nel cercare di accelerare i tempi di recupero. La finalità non è quella solo di abbreviare i tempi, come avviene negli adulti, ma nel cercare di seguire e ottenere i risultati migliori possibili. Questo non è facilissimo, non è facilissimo né per l'organizzazione sul territorio, né per il tipo particolare di pazienti che sono i bambini. I bambini si devono affidare, i bambini devono essere accolti e sarebbe necessario avere dei professionisti particolarmente abili e dedicati in questo settore specifico. E' talmente importante la riabilitazione che nel nostro ospedale c'è un centro a parte particolarmente evoluto, particolarmente attivo, particolarmente aggiornato di neuro-riabilitazione. La sede è presso Palidoro e Santa Marinella sono assolutamente in grado di seguire anche patologie molto più complesse di quelle post-traumatiche.